Lillo è la spesa programmata. Sapevi che lo spreco alimentare si può sconfiggere anche al supermercato? Esatto, basta fare una lista della spesa oculata e pianificare quali pasti faremo. Vi faccio vedere. Allora, per esempio, gli omut, eccoli qua. Scadono oggi. Ma come oggi? Aspetta, verdure. Verdure che ho... Ma sono andata male. Vabbè, ragazzi, allora, niente, questo è un contro tutorial in realtà, è marketing moderno. È un video su come non fare la spesa. Esattamente questo. Grazie.